Tra poco arrivano gli alieni pazzisti su Boomerang! Adesso... Arrivano i Baby Looney Toons su Boomerang! Tra poco... Arriva Braccio di Ferro su Boomerang! Che forza! Adesso c'è Braccio di Ferro su Boomerang! Tra poco... Caillou su Boomerang! Caillou inizia ora su Boomerang! Tra poco i film di Boomerang! I Puffi tra poco su Boomerang! Adesso iniziano i Puffi su Boomerang! Tra poco il giardino magico su Boomerang! Adesso inizia il giardino magico su Boomerang! Ed ora i Looney Toons su Boomerang! Bicchierello! Tra poco su Boomerang! Scatenato picchierello inizia ora su Boomerang! Tra poco Sam Sam su Boomerang! Adesso inizia Sam Sam su Boomerang! Tra poco... Scooby-Doo! Scooby-Doo su Boomerang! Tra poco... The Garfield Show su Boomerang! Adesso inizia Garfield su Boomerang! Tra poco ci sono i Tiny Toons su Boomerang! Ora ci sono i Tiny Toons su Boomerang! Tra poco Tom e Jerry Tales! Solo su Boomerang! Adesso c'è Tom e Jerry Tales su Boomerang! Non perdetevi ora Tom e Jerry! Su Boomerang! Adesso inizia Tom e Jerry su Boomerang! Tra poco arriva il cucciolo Scooby! Scooby-Doo! Su Boomerang! Tra poco le avventure di Pigly Wings su Boomerang! Dal lunedì al venerdì su Boomerang! E adesso le avventure di Pigly Wings su Boomerang! Tra poco... Ehi! Arriva l'Orso Yogi su Boomerang! Alla ricerca della Valle Incantata! Tra poco su Boomerang! Adesso si va alla ricerca della Valle Incantata! Su Boomerang! Tra poco... E lochitti alla ricerca delle Mele Magiche! Su Boomerang! Tra poco... Meraviglioso Natale con i Flintstones! Su Boomerang!